buongiorno a tutti agli amici di linkedin facebook e social network gianvito traquillo l'artigiano delle emozioni infotainer mentalista con le interviste le interviste a filippo chiado puli del circo wow www.circowow.it prima di andare avanti vi raccomando cliccate un mi piace ma soprattutto iscrivetevi al canale youtube perché l'obiettivo mio è molto chiaro lo voglio raggiungere dicembre non ve lo dico ma se lo raggiungo ne sarete coinvolti avete fatto un bellissimo video l'altro giorno terzo socio luca vincent su quello che è l'effetto coronavirus ogni nodo da sciogliere ecco non parliamo dei problemi parliamo di nodi da sciogliere perché il nodo da sciogliere a livello cognitivo ci riporta indietro a un'immagine e l'immagine positiva l'immagine di quante volte abbiamo sciolto il nodo di una corda di una barca il nodo di una del laccio di una scarpa e ci siamo riusciti quindi non parliamo di problemi parliamo di nodi da sciogliere e poi parlerei esatto parlerei dell'approccio perché molte volte un nodo può anche essere lasciato lì per un momento osservarlo quello che l'effetto già lo vediamo dal punto di vista socio politico economico però il coronavirus ci costringe a non andare a scuola i genitori non vanno al lavoro tutta una serie di strutture sono chiuse quindi la famiglia si ritrova costretta blindata diciamo all'interno della sua casa e lì scattano tutta una serie di perché di perché cosa faccio ora come interagisco col bambino c'è questa possibilità perché noi siamo dei maghi e cambiamo le premesse da questo coronavirus che è un nodo da sciogliere e che sicuramente si scioglierà noi cambiamo le premesse e scopriamo un mondo che mondo scopriamo che mondo ci hai suggerito beh innanzitutto scopriamo come parlano e come comunicano i bambini che quindi comunicano attraverso il gioco nel nostro video abbiamo proprio detto che una delle regole che seguono i bimbi è proprio che i bambini giocano e gli adulti parlano quindi è difficile riuscire a spiegare questa questo momento questo nodo da sciogliere ai nostri figli o ai bimbi che incontriamo solo con le parole ma dobbiamo dobbiamo testimoniarglielo attraverso un processo l'unico e quindi raccontarglielo come un'opportunità come quello che ci siamo detti uno serve anche a noi i genitori per capire perché i bambini registrano i bambini stanno registrando tutto quello che sta accadendo che sta avvenendo i genitori che parlano inconsapevolmente che hanno i bambini vicino il televisione la radio i social network i bambini sono delle spunte quindi sicuramente assimilano anche delle paure perché non sono paure loro ma sono le paure che registrano delle persone che vivono intorno a loro noi abbiamo il dovere di trasformare di spiegare queste paure e trasformarle in qualcosa di diverso ma l'invito che posso fare io è quello sicuramente di non nasconderla la paura perché la paura fa parte della vita è un sentimento è un'emozione esatto e molte volte ci preserva da fare delle cose no luca mazzucchelli psicologo online ci insegna che come diceva giustamente filippo proprio questo concetto paura rabbia non sono sono delle emozioni che fanno parte del nostro ciclo di vita assolutamente dobbiamo accoglierle ecco la bellezza è proprio insegnare ai bimbi attraverso questi processi di gioco a riconoscere lo stato d'animo che loro stanno vivendo il bambino sa che sta vivendo qualcosa all'interno del suo cuore il suo animo ma non riesce a capire che cosa sta vivendo quindi se è spaventato se è arrabbiato se è intimorito se è incerto se è insicuro deve capirlo e deve saper riconoscere la l'emozione ci sono un sacco di testi un sacco di storie un sacco di libri un sacco di opportunità anche di gioco che raccontano questo quindi raccontano un po come attraversare la paura facevamo l'esempio quindi andare oltre al concetto della paura buttare un po il cuore oltre l'ostacolo quello che dobbiamo fare oggi noi con le nostre aziende con le nostre famiglie e cercare di buttare il cuore oltre l'ostacolo per ripartire e magari ripartire in un modo diverso rispetto a prima sì perché comunque possiamo imparare tante cose da questa esperienza che stiamo vivendo tutti quanti all'interno del nostro nucleo familiare le relazioni umane le relazioni familiare la voglia l'energia psicologica di essere presenti in maniera diversa il giocare e interagire mi avete fatto tornare indietro all'infanzia quando parlavate di uno dei giochi più semplici del mondo che era quello di prendere un un telo due sedie ribartarle creare una tenda e entrare all'interno di questa tenda con il proprio figlio e lì accogliere il suo sentimento il suo sentire oppure cosa bellissima facevate un ragionamento il vivere con i nonni e scrivere una lettera che ancora luca mazzucchelli tu sei chi lo seguo luca l'altro giorno ha postato un video sull'importanza della scrittura che quando noi scriviamo noi sedimentiamo le nostre paure più profonde assolutamente assolutamente concordo con te possiamo svelare qualcosa possiamo canare oltre nel senso che dopo aver creato questa questo nascondiglio questo spazio di calma all'interno di questo spazio si possono fare delle attività quali sono le attività che si possono fare con un bimbo per esempio si può creare un barattolo delle buone notizie bellissimo quindi un barattolo delle buone notizie si scrivono una serie di messaggi divisi per colore ok perché poi si può regalare a papà perché magari papà è un po più preoccupato di queste in questa situazione sentendosi il capo famiglia e quindi anche la persona che deve dare la direzione alla famiglia ecco per fargli vivere questo momento in una maniera un po più serena insieme al bambino si possono scrivere tutta una serie di buone di buone azioni di buone emozioni quindi dei consigli delle rassicurazioni dei complimenti delle buone notizie molto più semplicemente e che il papa può pescare o può addirittura condividere con i propri colleghi di lavoro come se fossero il messaggio dei baci perugina sì che bellissimo anche perché io dico sempre noi molto spesso quando viviamo un momento negativo della nostra vita a livello cognitivo tendiamo ad amplificare tutto ciò che di negativo abbiamo vissuto nella nostra vita se noi prendessimo per esempio questo barattolo viviamo un momento negativo iniziamo a entrare in loop negativo prendiamo questo barattolo lo apriamo e andiamo ad estrarre invece tutto quello che di bello che di positivo abbiamo realizzato un'ora prima un giorno prima un mese prima una settimana prima e ci rendiamo conto e ritorniamo in possesso di tutte le bellezze che quella paura in un attimo ci ha cancellato certo certo invece noi dobbiamo vivere nella paura nemmeno uscirne però quindi riuscire anche a stare questo concetto l'abbiamo esplorato molto nei nostri diciamo percorsi nei nostri rispettivi percorsi come mago in corsia di ospedale noi siamo io sono uno dei pochi clown sociosanitari italiani con un certificato professionale che ci ha per me questo mi ha permesso appunto di fare una serie di esperienze all'interno del dell'ambito ospedaliero e quindi e di andare di entrare in contatto con dei bimbi che stavano male quindi con dei bimbi e con delle famiglie che condividevano un attimo un momento si spera breve di malattia e in questo momento spesso ci confrontiamo su questo argomento e queste sono esperienze di vita molto profonde sono esperienze che ti formano e che ti danno anche la percezione di una realtà totalmente diversa da quella che hanno le persone comuni non vorrei mettermi troppo su un piedistallo però è vero che chi ha vissuto questo tipo di esperienze ogni volta che nella propria vita ci si presenta un problema perdonatemi io penso sempre a quelle persone in quei luoghi che quelle persone veramente hanno superato ostacoli della vita veramente molto molto più duri assolutamente per ogni problema c'è una soluzione perché siamo abituati ad agire ma non siamo più capaci a pensare quindi questo momento il coronavirus ci obbliga a fermarci fermarci e quindi pensare riflettere e nella riflessione fermati pensa agisci esatto e nella riflessione scaturiscono delle idee degli approcci la valutazione di approcci diversi ed ecco come si può entrare in relazione con questo momento che è paragonabile a un momento di malattia collettiva no noi con le nostre competenze possiamo un po' osservare questo momento e noi che abbiamo sviluppato noi come tanti altri professionisti nel campo sanitario perché non dimentichiamoci di chi questa questo virus sta combattendo in prima linea quindi a partire dagli os che sono le persone che vengono meno citate ma che svolgono un'attività fondamentale per l'ospedale gli infermieri tutti i medici primari e anche tutti i turni con tutti quelli che erano in pensione che sono stati richiamati all'ordine per poter lavorare che ci sono offerti volontari la parte della manutenzione la parte dell'amministrazione degli ospedali c'è tutto c'è c'è tutta una macchina le asl tutta una macchina di persone di professionisti che si sanno che si stanno attivando quindi in maniera competente in maniera competente quindi io direi che sicuramente non siamo da soli a diciamo a osservare questo nodo quello che possiamo fare noi è un po cambiare la prospettiva quindi cercare di capire come questa esperienza ci possa favorire nel futuro no e quindi questa capacità di stare nella situazione ci aiuta a evolvere a uscire da quel momento questa situazione ci ci porta a non dare la mano alle persone però nessuno ci sta insegnando come possiamo prendere per mano le persone e allora nel video torniamo indietro che hanno realizzato luca e filippo e insegnavano proprio a come prendere in mano la situazione nel momento che ci ritroviamo all'interno delle nostre quattro mura con i nostri figli con i nostri familiari riprendere possesso di quella che è sconfiggere come in un videogames il coronavirus esatto esatto si può fare si può fare bisogna passare un po di livelli insomma si può sconfiggere questo si deve si deve si può perché nulla è impossibile assolutamente dottor clown dottor clown dottor clown dottorone dottorone tu qual è il tuo nome mio era dottorone dottor one dottor one dottorone io ero vito svito vito la parte seria svito la parte faceta poi domanda al bambino tu preferisci quello normale o quello pazzo secondo voi cosa risponde assolutamente quello pazzo assolutamente sì quindi vito svito entrava in azione cosa ci insegna l'attività negli ospedali primo bussare alle porte degli spazi dove stiamo entrando e domandare è permesso assolutamente secondo me lo dicevi te il bambino può anche rifiutare certo rifiutare rifiutare perché all'interno di un contesto ospedaliero l'unica cosa che può rifiutare non sono le visite non sono le diciamo gli interventi del personale non sono le medicine ma è il l'intervento di intrattenimento quindi tutta la parte legata al alla magica in corsia o alla clown terapia può servire al bambino proprio per esprimere il proprio rifiuto e quindi è da accettare perché in quel rifiuto noi ridiamo al bambino il potere di decidere certo ed è una cosa molto sottile così come le persone si scordano del del fratello sano il fratello sano lo lasciamo in disparte perché tanto è sano e purtroppo il fratello sano poi ne pagherà le conseguenze a livello di sensi e quello che quello che il motivo per cui abbiamo fatto questo video di luca ma è anche il motivo per cui siamo oggi insieme io e te evito è proprio quello di raccontare come poter testimoniare persona che sta subendo un momento di crisi un percorso ok quindi in questo caso a tutti noi che siamo malati sia a livello fisico che a livello cognitivo esatto come si esce da questo turbine da questo tornado perché quando soprattutto quando si fa attività con i bambini la famiglia è all'interno di questo ciclone mentre nella nella famiglia ma mentre nella famiglia bisogna fare un'azione molto delicata no certo quindi come dicevi prima tu bussare osservare e soprattutto dare spazio e dare tempo al bambino di entrare in relazione con noi quindi non c'è bisogno di agire subito e quel tempo bisogna rispettarlo non c'è bisogno di agire subito quindi prendere una decisione che è la cosa bella no dov'è poter entrare in un posto non so se vi è mai capitato di poter entrare in un posto e agire di pancia quindi non fare cose da premeditate immaginarsi prima quello che succederà ma entrare e vivere fluidamente quel momento questo è quello che si può fare anche nei momenti di noia con i nostri figli a casa no quindi dice bene sei annoiato allora sai cosa faccio mi annoio con te mi annoio con te iniziamo a condividere la noia da qua partirà qualcosa e succederà qualcosa perché ci sarà uno spunto ci sarà un raggio di luce che ci porterà fuori a fare una passeggiata ci sarà un rumore che magari ci sprona a fare degli altri rumori e magari a comporre una musica improvvisata battendo su i muri le pareti il divano poi la registriamo lamentiamo su tiktok e magari diventa virale arriva un milione diventa tutto ma diventa tutto spunto di riflessione quindi anche di riflessione di azione poi però anche perché ritorniamo in possesso di spazi che perdiamo perché quando siamo poi fuori sani normali e siamo sempre concentrati su questo oggetto malefico e il 90 per cento della nostra vita è su questa cosa invece siamo costretti a casa e possiamo veramente divendere possesso della fisicità certo certo e anche delle e anche dei momenti di condivisione spontanea no quando non so se ti succede spesso ma di sentire di chiamare continuamente il tuo nome perché vuole il tuo figlio ti sta chiamando ma ti è successo sicuramente al parco giochi con i tuoi bambini che ti guardano dicono papà guarda che faccio questo papà guarda che faccio quello e tu sei distratto da mille pensieri da mille cose bene oggi abbiamo la possibilità cambiamo le premesse cambiamo le premesse abbiamo la possibilità di non distrarci anzi di impegnarci impegnarci a stupire nostro figlio ad essere lì ad osservarlo prima che lui ci chieda quindi concentriamoci a ritrovare noi cambiamo le premesse è vero c'è una blindatura sociale economica in questo momento ma questo essere blindati ci permette di restare fermi qui e ora quindi apprezzare che è molto simile a wow wow che è molto simile a wow ecco che se vogliamo evitare di avere dei problemi con i nostri figli quando sono adolescenti dobbiamo imparare a prendere delle scelte più consapevoli e a prendere delle scelte insieme ai nostri figli quindi coinvolgerli in quella che è la scelta in una scelta alimentare coinvolgerli in una preparazione di una cena coinvolgerli quello che stanno dicendo questi giorni coinvolgerli gli adolescenti nelle pulizie di casa e non lasciarli a fare i compiti ma coinvolgerli attivamente in quella che è la realtà e non c'è niente di male una volta si faceva molto no questo cioè imparavano se andava a scuola in bottega oggi è una cosa che abbiamo a fare il pane in casa la pizza esatto esatto quindi tiriamoci la farina addosso ogni tanto ci sta assolutamente no cioè ci sono in vita il bambino che dentro di noi manteniamo quindi nutriamo il nostro bambino ma soprattutto nutriamo l'autorità nei confronti dei nostri figli che non è non è negoziabile questa autorità noi la stiamo delegando ad altre strutture che sono la scuola che sono lo sport perché oggi bambino se non fa sport assolutamente non è che non devono fare sport ci mancherebbe altro ma impegnare tutti i giorni liberi momenti liberi del bambino con uno sport secondo me non è che sembra quasi un posteggiare il figlio nascono posti che si chiamano baby parking quindi parcheggia il bambino non che sia sbagliato il concetto della struttura e non sto naturalmente attaccando le persone che ci lavorano all'interno ma proprio anche il nome secondo me tu me lo insegni le parole insegnano il baby parking è parcheggia tuo figlio da qualche parte perché già la parola parcheggiare ora i nostri figli devono secondo me condividere la nostra realtà imparare da noi assorbire da quello che possiamo trasmettergli per poter far fronte a tutti questi momenti difficili e quindi avere gli strumenti no la domanda che ci viene secondo me più veloce in questi momenti che condividiamo con i nostri figli ma noi questi strumenti ce li abbiamo oggi ma soprattutto siamo curiosi siamo curiosi li sappiamo gestire li sappiamo gestire li sappiamo utilizzare in che modo in che modo quindi ti metti alla prova lì bisogna mettersi alla prova in gioco e forse dimostrare al bambino che mamma e papà non sono infallibili che non vuol dire che non vuol dire insegnare al bambino il fallimento insegniamo ai bambini che sì che possiamo sbagliare che si può cadere che si può cadere ci si può rialzare si può chiedere aiuto per rialzare si può condividere l'errore si può condividere l'errore sono momenti di crescita e questo è tutto quello che possiamo veramente tirare fuori dal cilindro magico da questo da questo morbo che ci sta che ci sta bloccando dal punto di vista sociale politico economico ludico e creativo e dobbiamo cogliere questa opportunità questa è un'opportunità ce la giochiamo è un'opportunità perché ci obbliga a fermarci a pensare e agire io ringrazio Filippo per questo per questo momento di riflessione come sempre mi raccomando www.circowow.it www.circowow.it è il sito dove per i privati per le famiglie quello rivolto alle aziende quindi più per gli eventi corpore in trade e soprattutto i family day quei momenti di aggregazione dove l'azienda deve lavorare su cui vuole lavorare su questi valori coinvolgete noi artisti anche per entrare all'interno del vostro evento per essere parte integranti del vostro del vostro evento perché è molto importante così come ora abbiamo l'obbligo di entrare a essere parte integranti della vita dei nostri figli che devono capire che queste cose possono accadere ma vanno gestite anche in maniera intelligente questo è il nostro lavoro questo è quello che facciamo sui palcoscenici questo è quello che facciamo nei nostri eventi nei cortili delle case nei cortili delle case nelle sale delle parrocchie nelle sale delle parrocchie nelle grandi convention nelle grandi convention negli ospedali dappertutto assolutamente l'evento è fondamentale l'italia deve ripartire sì fate ripartire anche gli eventi assolutamente facciamo ripartire gli eventi perché gli eventi sono quel luogo di spensieratezza di felicità di allegria di riflessione che ci permette di capire che siamo un popolo di eroi naviganti e poeti e poeti cliccate un mi piace iscrivetevi al canale youtube e come sempre gianvito l'artigiano delle emozioni infotainer e mentalista vi saluta con un buio